Spirito di pace ha insegnato le cose che Dio Vieni, vieni, Spirito di pace A suggerire le cose che Lui ha detto a noi Noi ti vogliamo, Spirito di Cristo Vieni, vieni dentro di noi Cambia i nostri occhi Anche noi vediamo la vita di Dio per noi Vieni, vieni, Spirito di pace A suggerire le cose che Dio Vieni, 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 Spirito di pace A suggerire le cose che Lui ha detto a noi Amen Signore, Pietà Cristo, Pietà Signore, Pietà Amen Grazie 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 senza intercedere, senza intercedere, con questo nuova consapevole la mia gente. Ecco, per te li ho chiamati, per vederli e parlati, poiché è attrazione della speranza in Israele, io sopra di là la festa catena. Paolo, rascorse due anni in piedi della casa che aveva preso in affitto e accorgiavano tutti quelli che venivano da lui. Annunziamo quello di Dio e insegniamo le cose ricordando il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza intervento. Parola di Dio e amiamo grazie a Dio. Amén. L'uomo di lei è il Signore portemmo il tuo cuore, l'uomo di lei è il Signore portemmo il tuo cuore. Il Signore è il suo tempo e santo, il Signore è il primo edificio, i suoi occhi osservano a te, e il suo figlio esprude l'uomo. L'uomo di lei è il Signore che concederà il suo voto. Il Signore è il Signore che concederà il suo voto. L'uomo di lei è il Signore che concederà il suo voto.